Sarebbe arrivato presto in Serie A e oggi da diverso tempo è internazionale, con prospettiva oggi lo sa pure di manifestazioni mondiali, visto che Di Braura l'ha dimostrato a parte quel protocollo che i superiori hanno scritto del VAR che purtroppo in tanti non abbiamo compreso e ci siamo fatti spiegare da Matteo Trefoloni che oggi è responsabile degli arbitri di Serie D in un incontro recente fatto a due passi dalla Roma-Fiumicino, peraltro molto costruttivo devo dire. Il Lettuno che fu sconfitto dal Villanova 4-0, 12 mesi dopo, ma si tornò allo stadio Flaminio e fu la prima volta senza Antonio Sbardella, nel frattempo scomparso purtroppo nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2002, il Lettuno vinse in rimonta subendo il primo gol dall'Unione Sportiva Ladispoli e poi battuta 3-1 e Ladispoli si rifece 12 mesi dopo, ma altre fontane in questo ping pong di una persa e una vinta, il Ladispoli sfidò la temibilissima sezza e setina dell'italo-argentino Testone, uno squadrone, andò sotto di un gol, rischiò tre volte di capitolare, pareggiò con Luca Mazza e vinse ai tiri di rigore con Merchia Dante che ne parò ben due dei cinque tirati, vinse cinque a tre nel complesso, quindi 4-2 rigori, il Ladispoli e qui la storia si fa presto a fare, perché oltre all'Alcamo al Boiano, il Ladispoli andò in sede nazionale a Pontassieve, fu fatta alla prima diretta web dal nostro sito ilcalciodimax.it che all'epoca si chiamava con un altro nome, fu la prima diretta web di una partita direttantistica in tutta Italia. 7 maggio 2003 il Ladispoli batte il favoritissimo Dertona, uno squadrone già pronto per la D con gol di Daniele Galassi, ex calcio a cinque in Serie A e a livello internazionale, al minuto 71 in una azione costruita da Gianluca Valerio, da diversi anni uno dei responsabili giovanili della Romana Atletico 2000 e anche con buoni risultati. In quell'azione c'entrò anche il nostro amico Marco De Sisti, figlio di Giancarlo De Tropicchio, già centromediano di Roma, Fiorentina e vice campione del mondo in Messico nel 70, visto che menzionavamo Antonio Sbardella che diresse la finale nel terzo posto, visto che l'Italia perse la finalissima col Brasile per 4-1 e invece quel terzo posto se lo giudico, se non ricordo male, la Germania sull'Uruvai. Tornati a cose più dilettantistiche, ci fu poi la finale del 2004 che vi ho detto essere stata decisa ai rigori in una unica volta in cui vinse una romana, il Torrenova sulla Roma Ottava ai rigori dopo il doppio 0-0, peraltro anche noioso, vinse il Torrenova che poi fu una stabile realtà d'eccellenza. Nel 2005 al Flaminio in Cecchina superò la Cinzia Genziano che non è fortunata con le finali di Coppa Italia, come lo è stato invece nella sua storia in campionato o con i play-off, decisa quella partita da Ramazzotti su calcio di rigore all'84esimo, un rigore decretato dal modesto Gargano di Roma 1 con il braccio del difensore della Cinzia attaccato al corpo. Qualcuno mi disse che avrebbe ammesso poi l'errore di fretta, il direttore di gara forse impaurito atleticamente dai supplementari, chi lo sa. Anche l'anno dopo ci fu un appendice nel 2006, Santa Marinella con le ferro terminò 1-1 ma ci furono due euro goal nei tempi supplementari, non si arrivò ai rigori. Anche quella la trasmettemmo in sede televisiva, ma mai come l'anno dopo la vittoria del Formia che vi ho descritto essere stata la prima a livello satellitare quindi in Europa. Nel 2008 la seconda vittoria di una squadra di promozione su tre finali, detto della sconfitta del Netturo qualche anno prima. Vinse il Palestrina, se non ricordo male, sul Formia ad Anagni di Misura. Nel 2009, sempre al Roberto del Bianco di Anagni, si impose il Pomezia, una delle 18 squadre della provincia di Roma a vincere la Coppa Italia del Lazio, sul Fidene, vittoria di Misura, goal di Amassoca. Insomma, fu anche una partita giocata tra due squadre che avrebbero potuto militare tranquillamente in Serie D per come era stata costruita. Nel 2010 vi avevo accennato il successo numero 3 della provincia di Latina con la Vigor Cisterna che a Viale Tiziano si impose 2-0 sulla lupa Fraschati. Siamo nel 2011, il Città di Marino a Casal del Marmo, Campo della Strea, batte il Palestrina e poi nel 2012, come ho detto, al Salare Sport Village, già centro sportivo Banco Roma, il Rieti, il Football Club Rieti, batte 2-1 il Pisognano, una partita molto tirata in cui il Pisognano nell'azione dell'89esimo accarezzò il palo e nel contropiede successivo capitolò. Il Rieti era allenato da Fabrizio Paris. Se la memoria non mi fa difetto, recentemente fatto accomodare forse in maniera frettolosa dal Rieti e fin qui siamo al 2012. Nel 2013 al Bartolani di Cisterna tante polemiche col Bovilla Ernica maltrattato da un arbitro cattaneo di Civitavecchia che poi sarebbe stato promosso e da Civitenga un assistente abbastanza scarso per la verità. Vince il Colleferro per abbandono nel Bovilla Ernica che era frutto di un gol e a quel punto in 9 uomini. Ma le polemiche non hanno frenato il fascino e anche la capacità organizzativa che ci vuole, come stanno per raccontare Vignola e Natali, in ordine sparso. Nel 2014 a Frascati l'Empolitana battè la favoritissima Viterbese Castrense. Nel 2015, stesso proscenio, si arrivò ai tiri di rigore l'Alba Longa battè la Vis Artena. Siamo in tempi più recenti al Francioni nel stadio di Latina, a Piazzale Prampolini. Il Cassino vinse il trofeo regionale, siamo nel 2016 e poi ci furono le due vittorie dell'Unipumezia 2017-2018. Quest'anno non ce l'ha fatta perché è stata eliminata, come ci racconteranno tra poco i nostri colleghi, in semifinale, doppia semifinale. E poi la nuova Florida che fece 1 a 1 al Tre Fontane un anno fa e che vinse contro la Cinzia Gensano ai tiri di rigore. Questo è stato il percorso di 29 anni, anzi di 28 anni di Coppa Italia d'eccellenza, che due volte ha visto il successo del Civitavecchia e della Dispoli nel 1994-2003 e che permise le due realtà tirreniche, quella nera azzurra e quella russo-blu. All'epoca il Presidente era il geometra Marino, Francesco Marino, oggi è Umberto Paris, il padrone di casa, permise a queste due realtà di salire tramite la cosiddetta competizione alternativa o infrasettimanale, si gioca sempre di mercoledì, di andare in Serie D. Io direi che è tutto per quello che riguarda questa corposa introduzione, l'avevo definita breve su Facebook, ma naturalmente era un eufemismo anche autoironico, Massimiliano Morghiante direi che è giunto quasi il momento, fra circa tre minuti, di vivere in diretta su Radio Roma Futura.it, che la domenica ospita la Serie D, attraverso le voci di Natale Vignola, quello che sta per accadere tra il Real Monterodono Scala, realtà del ventiquattresimo chilometro e cinquecento della strada del sale, quella che porta ad Ascoli, la salaria, e il Villalboca Smoca, che lo ricordiamo ha avuto tra i suoi mentori, anzi il suo assoluto mentore in Orlando Di Mitto, che fu l'uomo che consigliò al barone Lidlman di non far transitare troppi mesi due tipi chiamati Agostino Di Bartolomei e Bruno Conti in primavera, provenendo dalla sua squadra allenata negli allievi della Roma e il resto della storia la sappiamo, sia per quello che riguarda lo scudetto della magica, la finale persa con Liverpool, ma anche la Coppa del Mondo che vinse il re di Nettuno. È tutto per quanto mi riguarda, vi ascolterò fino al termine, come dicono quelli bravi, grazie della cortese attenzione, buona Coppa Italia d'eccellenza a tutti e a tutti da Max Cannavire. Benissimo, grazie a Max, noi andiamo in una pausa musicale e ci colleghiamo subito con la Dispoli, con i nostri Alessandro Natale e Maglio Vignola. Benissimo, grazie a tutti. Eccoci che siamo di nuovo in diretta qui su Radio Roma Futura.it, abbiamo lasciato Max Cannarile e ci siamo già collegati con la Dispoli, con il nostro Maglio Viglionia. Ciao Maglio, come stai? Tutto bene, a parte il vento dell'Angelo Salle, tutto molto bello, la costrata delle grandissime manifestazioni, benvenuti all'Angelo Salle di Radisco, dove tra pochi istanti venderà la finalistica di Coppa Italia di eccellenza, di fronte Real Montrondoscano e Villalba che stanno entrando in questo momento sul rettangolo verde. Mai le due formazioni, la formazione tiburtina del presidente Scrocca e la formazione eretina di David Centioni sono arrivati a questo storico traguardo della finale. Entrambe che stanno giocando un bellissimo campionato, lo scalo che da più di qualche settimana sta comandando il raggruppamento dell'Eccellenza Naziale. Dall'altra parte il Locke Smoka che nel suo percorso ha battuto al photo finish l'unico mezza nell'attimo finale dopo l'1-1 è riuscito a battere in rimonta tra le mura amiche, proprio una crisana vittoria finale, l'unico mezza che ricordiamo per gli storici appassionati di questo grandissimo sport vinse le ultime due medizioni nelle ultime tre Coppa Italia. Però all'attuale, entrambe le formazioni, Centioni e Leone, sono già incontrati nel 2016-2007 quando le formazioni allenavano di promozione. Leone con l'Efanto Marino liquidò 3-0 il Real Colosseum, allora allenato da Centioni. Però è tutta la storia passata, tanta acqua è passata sotto i ponti fino a questo momento. E oggi l'attuale dice questo, Calo contro Leal Mondo Toscano, in formazione tipo squalificati, solamente fino all'interno andata. Quindi Centioni si schiera con questa formazione, dando spazio al 2-1-1, Faldi Chedi, autore di diverse parate importanti ai calci di rigori, soprattutto nel turno contro la Bicocchi del Conti, all'inizio di ottobre e che ha permesso proprio lo Scalo di arrivare nella finale, dove in semifinale ha eliminato il Civita Vecchia. Ricordiamo che lo Scalo non ha mai vinto in capa le partite della Coppa Italia, quindi soprattutto nelle partite esterne ha espresso il suo proprio valore, nonostante formazioni comunque giovani che Centioni ha messo in campo. Dall'altra parte, la rivelazione di questa Coppa Italia è Nocler Spoca, che sicuramente non è la partita con i favori del prossimo per arrivare così in fondo, però sappiamo tutti la grinta e la desegnazione di mister Diego Leone, che in questa stagione gli sta regalando comunque punti importanti anche in campionato. Andiamo alle attune delle formazioni, Real Mondo di Scalo in campo con Valdine, Situordano, Passiatore, Politanò, Albanesi e Lalli, Piorucci, Bellardini, Colacchi, che è tornato dopo l'importuno l'omenica scorsa della partita di Tivoli, Dilli e Lupi, il fan del Ticco, si sta parlando moltissimo di questo Dilli, autore di gol importanti nelle ultime uscite, l'uno su tutto nel derby contro l'Eletum, un montonno sabato scorso, a disposizione di 20 centioni, che sono in banchina Santi, Passeri, Parmarucci, Doratti, Ranzoni, Valdatti, Pasquo, Braccio e Palma, risponde Noca e Smoca con Mosciatti, Mascioli e Langiotti, Scotto di Clemente, Taverna e Ranieri, Pari, Custi, Cenezzi, Mereo e Alfonsetti, a disposizione di mister Diego Leone, che sono in banchina Pangella, Petruccioli, Alfonsetti, Deluzi, De Giovani, Aurelio, Pacurio, Pusci e Belli, il direttore di gara, il signor Brizzi, Corelli della stizione di Ostia, l'assistente di pace, il signor Brizzi di Aprilia e il cilindro di Roma 1. Do la linea e il collegamento al nostro amico e collega Alessandro Natali, la partita è appena iniziata. Sì, la partita è iniziata proprio da qualche istante, Chiolangelo Sare di Ladispoli, la palla è tra i piedi dei giocatori in maglia rosso-blu, stia il Real Monte Rotondo Scalo. La palla da Bellardini, ancora per Bellardini ha cambiato con Fiorucci, ora sul polone passiatore, passiatore per Bellardini, tanto in profondità viene da due sconti, ricordiamo che viene da due sconfitte consecutive, la formazione di Davide Cenzioni, quella clamorosa, entrata con l'ottavia per 3-1 e quella di Tivoli di domenica scorsa all'Orindo Galli contro la formazione di Manolo Liberati, il rinvino da parte di Mosciatti, intercettato da Politanò. Ancora rubano un rimpallo favorire Fiorucci, Fiorucci in area di rigore, viene però fermato in calcio d'angolo da Scott e Di Clemente, primo calcio d'angolo del match, in favore della formazione del presidente Bruno Toccai, di mister Davide Cenzioni, come ha detto l'amico e il collega Maglio Vignola, dei due allenatori che erano già incontrati in finale di Coppa, era in promozione nel 2016, vinse Diego Leone 3-0 con il suo Levanto Marino contro il Real Colosseum dell'attuale tecnico della compagine della piazza d'aria, calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla formazione proprio dello scalo. Aspettiamo il fischio da parte del signor Colelli di Ossia. Sta per essere battuto questo calcio d'angolo, arriva adesso il fischio, colpo di testa a liberare l'area di rigore da parte